Quattro appuntamenti per parlare di quattro punti programmatici importanti del programma Fabrizio Di Stefano, si guarda il concreto, si guarda i bisogni dei cittadini. La scelta del candidato presidente non è una selezione da grande fratello, non è il che bisogna individuare il più simpatico, il più carino, ma chi ha un progetto politico in grado di dare risposte all'Abruzzo. Noi lo abbiamo presentato qualche settimana fa, il progetto Abruzzo 2019-2024, adesso lo andiamo declinando secondo i territori e secondo le problematicità. Allora parleremo le nostre idee su come si deve sviluppare un'azione di governo regionale forte per rimettere in moto o mettere in moto le ricostruzioni. Poi nella settimana successiva, mercoledì, incontreremo il mondo giovanile per parlare appunto del grosso problema del flusso di giovani che lasciano l'Abruzzo nuovamente per cercare lavoro fuori. Chiudiamo con il tema caldo della regione, cioè la sanità. Lo facciamo con due convegni, uno il 30, venerdì 30 e uno sabato primo dicembre, per parlare di due aspetti importanti di quello che è la nostra idea del nuovo piano sanitario 2019-2024. La rete ospedaliera e la medicina territoriale. Qui si è fatto un taglio di servizi e paradossalmente i costi sono aumentati tant'è che siamo nuovamente in clima commissariale. Nelle ultime ore per chiudere di Stefano il suo nome è tornato in auge come possibile candidato unico di un centrodestra che vuole andare oltre la terna di Fratelli d'Italia. Qual è il suo pensiero? Spero che si ragioni sulle idee ma spero anche che si accetti la mia disponibilità a concorrere alle primarie del centrodestra perché siano i cittadini, gli elettori, i militanti dei vari partiti a scegliere il candidato della coalizione. Io sono disponibilissimo a farlo e ritengo che la mia candidatura una volta sconfitto alle primarie possa tranquillamente sostenere il vincitore delle primarie. Perché se noi non ridiamo la scelta ai cittadini, se noi continuiamo a fare gli errori del passato dove scelte dall'alto sono poi state bocciate dai cittadini, noi non facciamo bene un servizio alla politica.